Emotional è stato realizzato per gli istituti estetici e benessere che vogliono offrire alla propria clientela un enorme valore aggiunto alla manualità altamente professionale dei propri massaggiatori ed estetiste, con tutto il comfort e l'air relax di un trattamento a 360 gradi. Fatto di rigeneranti combinazioni di colori, dal tepore dell'acqua e da una superficie in grado di accogliere il corpo della cliente in un caldo abbraccio, distribuendone il peso, sostenendolo con una spinta graduata e contrastando la forza di gravità. Buonasera a tutti, io mi presento, sono Silvia Carosso, direttrice artistica dell'associazione sportiva Studio Sport e Studio Danza e questa sera andrà in onda la lezione di Zumba Fitness. Per chi avesse bisogno di maggiori informazioni si può rivolgere al numero scritto in sovraimpressione, o recarsi direttamente presso le sedi dell'associazione Studio Sport e Studio Danza, sempre scritte in sovraimpressione. Ciao a tutti, io sono Roberto, sono istruttore ufficiale Zumba Fitness dal gennaio del 2009. Allora, adesso vi spero cosa consiste in Zumba Fitness. È un metodo molto molto semplice, molto divertente, nel quale coinvolgiamo tutti i muscoli del corpo, tonifichiamo e studiamo e produciamo così tante tante calorie. È basato in un'ora di tanto tanto divertimento con musica latinoamericana, e non solo, usiamo anche il tango, l'hip hop, tutti i ritmi. E questo fanno la lezione molto molto divertente. Questa disciplina, questa maniera di fare fitness è nata negli Stati Uniti. Nel 2008-2009 abbiamo avuto la fortuna che arrivasse qua in Italia e negli ultimi due anni ha fatto veramente un furore. Tantissima gente l'ha conosciuta, nelle lezioni c'è tanta gente che si diverte, che si diverte, che vede questa maniera di fare fitness diversa a tutte le altre. Bastano due ore alla settimana per sudare, per bruciare, per tonificare. Avere il corpo è una cosa molto molto importante, serve anche per eliminare tutto tutto lo stress. Se è una lezione molto divertente, uno quando finisce la lezione, sempre finisce con un sorriso. E anche con la maglia bagnata di sudore, perché veramente si suda tantissimo. Infatti tutte le persone che fanno questa attività stanno vedendo i risultati. Questa lezione è aperta a tutti, non solo per le persone grandi, sino anche per i giovani, non ha limite d'età. Anche i maschi, i femmini, tutti possono venire a fare questa lezione qua. Anziché non potete mancare, vi aspetto a tutti. Ciao! Grazie!